inserisci la rampa curva dalla vista in pianta puoi definire la larghezza, il numero delle alzate e la lunghezza delle pedate modifichi le impostazioni della curva definendo il raggio interno, la direzione e l'angolo da coprire personalizzi la scala scegliendo la tipologia e definisci le caratteristiche geometriche di ogni suo elemento modifichi l'altezza complessiva dal toolbox delle proprietà completi la scala assegnando i materiali Grazie a tutti!